ciao a tutti io sono il dylan dogofilo oggi recensione dell'album mensile numero 215 il pozzo degli inganni copertina di angelo stanno abbastanza ridicola dove troviamo dylan con un'espressione oscena e con con delle orecchie da bax banni qui abbiamo il pozzo degli inganni che emana un fascio di luce verdastro dylan non viene minimamente colpito da questo tipo di luce solamente un po all'interno della giacca viene colpito da questo fascio verde mentre il cattivone di turno sembra un po il grande puffo lui che dovrebbe avere la luce rivolta da questa parte anziché avere una luce solamente da questo lato e anziché avere addosso una luce verde si ritrova ad essere il grande puffo dalla testa ai piedi con una luce azzurra che non c'entra nulla una luce che ricopre anche alcune zone d'ombra che non dovrebbero essere per l'appunto colpite da questa luce quindi un pasticcio come al solito da parte di angelo stanno per quanto riguarda i giochi di luce testi e sceneggiatore di pasquale gruio disegni di luigi piccato il pozzo degli inganni una storia che ha una trama di base abbastanza buona una trama che però va un po a sfociare nel non nel ridicolo ma una storia che viene traviata fin troppo da alcuni elementi che adesso andremo ad analizzare insieme quindi una storia che parte bene ma piano piano scende fino a ricevere un 6 e mezzo come voto finale andiamo a scoprire il perché qual è la trama innanzitutto Dylan gira per Piccadilly Circus ad un certo punto viene rapinato da un ragazzino ladro clandestino che gira per Londra questo ragazzino abita in una casa e questa casa è di proprietà di quest'uomo che utilizza e sfrutta tutti questi ragazzi prostitute via dicendo per fare i suoi loschi giochi quindi Dylan decide di rintracciare questo ragazzino in un modo o nell'altro perché gli ha rubato il portafoglio dentro c'era lo stipendio di Graucio lo stipendio di un altro cliente i documenti insomma le solite cose quindi Dylan vuole chiedere aiuto a Block a questo punto Block scoprirà di più scoprirà che questo ragazzino per l'appunto prigioniero tra virgolette anzi è un vero e proprio schiavo di questo signore qui un signore malavitoso davvero un mafioso ad altissimi livelli quindi Block sconsiglia vivamente di sporgere denuncia verso questo quest'uomo perché è un uomo davvero molto pericoloso e Block decide di stare zitto anche riguardo dalla faccenda dei clandestini perché perché qui interviene un po' il buonismo generale che si articola in tutta la vicenda un buonismo che mi sembra fin troppo esagerato anche Dylan quindi Block e Dylan decideranno di non sporgere denuncia verso clandestini dei clandestini che vanno in giro a rubare per piccare gli circus Dylan infine scoprirà il luogo dove si rifugia questo ragazzino scoprirà tutto questo casino che c'è dentro di proprio giri illegali inimmaginabili ma Dylan sempre a causa del suo buonismo esagerato che neanche Gesù quando è venuto sulla terra era così buono e così aperto verso gli altri decide di non fare niente quindi di lasciare nel caos più totale Londra quindi un Dylan che va bene che non ha pregiudizi va bene che altruista va bene che non è razzista è tutto quello che volete ma Dylan che non non interviene nella maniera giusta in termini legali e in termini di sicurezza pubblica comunque non sfioriamo questo argomento politico altrimenti qui come al solito nei commenti si scatenerà il finimondo con questo volevo dire che dunque Dylan arriverà in questa casa e scoprirà questo pozzo degli inganni un pozzo sotterraneo in questo pozzo sotterraneo sarà intrappolato un demone e questo demone si ciba di alcune persone che finiscono nelle sue grinfie questo pozzo che si chiama pozzo degli inganni non a caso perché inganna per l'appunto le persone le persone questo pozzo riesce a soggiocare la mente delle persone le persone cadono nelle grinfie di questo mostro e questo questo demone si ciberà di loro ad un ad uno e quindi Dylan scoprirà tutta questa cosa cercherà di aiutare il ragazzino quindi mette da parte anche la storia del furto questo ragazzino alla fine si fa amico con Dylan in un certo senso e quindi Dylan cercherà di chiudere di creare una specie di sigillo per chiudere questo pozzo infernale alla fine ci riuscirà allora quello che voglio dire questa quella trama quello che voglio dire di questa storia che come come vi ho appena presentato la trama è abbastanza buona con questo pozzo con i demoni generali eccetera ma con tutta questa storia del buonismo generale la trama viene un po sotterrata da quello che è invece un argomento politico quindi la politica che viene messa in evidenza rispetto alla trama di una storia dell'indagatore dell'incubo e questa cosa non mi piace come già detto in altre occasioni preferisco leggere una storia di Dylan Dog a tutti gli effetti piuttosto che una storia di politica con una sfumatura da Dylan Dog quindi per questo che la storia riceverà un voto basso ma anche a causa dei disegni di Luigi Piccato che in questa storia forse danno il peggio Luigi Piccato dal peggio di sé in questa storia come solito troviamo dei tratti di Dylan plasticosi questi 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 riflessi questa sorta di riflessi di riflessi sul viso donano una specie di effetto plastica quindi sembra quasi che Dylan sia il un po come un gioppino il Ken della Barbie che ha il volto di plastica poi io non so voi ma non ho mai visto in tutta la mia vita una pizza più brutta di questa vabbè che sono dettagli però sono dettagli che in un contesto già di una storia scusate quando sta cadendo la macchinetta in un contesto di una storia che già non brilla per bellezza troviamo anche dei disegni che davvero non convincono assolutamente una pizza davvero bruttissima io non mangerei mai una pizza del genere davvero Piccato che poi riesce in questa storia nel numero 215 riesce a disegnare anche il blocco più brutto di sempre davvero un blocco più brutto non l'ho mai visto in tutta la mia carriera di lettore di Dylan dog quindi storia un po così e così sotterrata da argomenti politici che vanno in risalto rispetto alla trama stessa disegni che non convincono pienamente una copertina di poco scena 6 e mezzo è il voto che un po vado a dare a quest'albo per il momento è tutto se questa recensione ti è piaciuta se ti è stata utile condividila dove vuoi con chi vuoi su tutti i social network possibile inimmaginabili iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sul mondo di Dylan dog a 360 gradi noi ci vediamo in un prossimo video dedicato al mondo dell'indagatore dell'incubo